Regione Toscana e Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto un accordo di programma che rappresenta un'integrazione agli investimenti di BHGE in Toscana che riguarda i progetti 4 e 5 del programma Galileo, sostenuti con 65 milioni di euro. Il progetto 4 prevede lo sviluppo di una piattaforma innovativa di compressore assiale per turbina gas, mentre il progetto 5 consentirà lo sviluppo di soluzioni digitali innovative che faranno leva su tecnologie di industria 4.0. L'accordo è stato firmato con soddisfazione dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Regione Toscana insieme al Presidente di Nuova Opinione. Quest'ulteriore accordo nasce dal programma Galileo che prevede 600 milioni di investimenti da parte della General Electric in Toscana con l'obiettivo di creare un centro di eccellenza mondiale per lo sviluppo di turbine e compressori concentrando in Italia tutte le fasi di progettazione e produzione.